Gianluca Viali, dopo Cannavaro, Balgio, Maldini e Baresi, tocca a te entrare nella love fame categoria giocatore italiano, direi che sei in ottima compagnia. Sono in ottima compagnia, vorrei dire era ora, no ma a parte gli scherzi sono felice, orgoglioso, onorato e quindi sono anche grato alla federazione e alla giuria per avermi scelto. La certificazione è che ho fatto un buon lavoro, mi sono divertito molto e essere nella love fame è veramente un momento molto emozionante. Poi sono in ottima compagnia, anche quest'anno hanno scelto dei personaggi veramente straordinari, quindi bene, sono felice. Tu sei stato un grande attaccante, se adesso fossi ancora in campo, con quale attaccante italiano ti piacerebbe far coppia in avanti? Direi con Totti forse, perché io ho avuto la fortuna di giocare con Baggio, con Mancini, Del Piero, Zola, dei grandi centrocampisti offensivi che mi hanno sempre permesso di fare tanti gol. Io in cambio correvo per loro, era il mio modo di sdebitarmi e credo che Totti mi sarebbe divertito molto con lui. Un'ultima domanda, a giugno gli europei in Francia, come vedi l'Italia di Conte in vista dell'impegno continentale? La vedo bene, non siamo i favoriti, ma questo potrebbe essere un vantaggio. Credo che Conte sia una persona di cui io personalmente mi fido molto e quindi sono convinto che siamo in buone mani. Abbiamo una buona squadra, giochiamo con orgoglio, con umiltà, con cattiveria, quindi credo che ci faremo onore. Al di là del risultato, credo che saremo tutti orgogliosi delle prestazioni della Nazionale. Grazie.